Lasciami stare pep... Ok, vado. Ragazzo, sono colpito. Non pensavo sapessi combattere così. Hai le carte in regola per organizzare la resistenza. Il prossimo passo è ristabilire la frequenza radio. Il segnale è andato. Non riesco a captare niente al di fuori dell'isola. La torre radio vicino alla riva sud deve essere fuori uso. Credi di riuscire a sistemarla? Mi manca andare a caccia qui. Ela, non so come ringraziarti. Grazie a te. 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 Wow, vissza le picchia, Occe. Gli animali se la sono data a gambe quando sono arrivati. Cos'era? Ma che cazzo? Se non puoi batterli, unisciti a loro. In molti hanno pensato così. Peccato, avevano paura. So cosa stai pensando. Non ti farò arrampicare su tutte le torri della contea, non preoccuparti. Ma comunque, cerca di non cadere. No. 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 No.